Oggi l'Aula del Senato vota per decidere se processare o meno Matteo Salvini, ma lui decide di non presentarsi. La nuova strategia del leader della Lega prevede che i 60 senatori escano dall'Aula. Ad apertura dei lavori alle 9.30 spetta ad Erika Stefani il compito di riferire all'Aula sull'esito del voto in giunta del 20 gennaio. Ma che cos'è il caso Gregoretti? È il nome della nave militare italiana che nel luglio 2019 soccorsa 116 persone nel Mediterraneo centrale ma restò ferma per giorni nel porto di Augusta a causa del divieto di sbarco imposto dall'allora ministro dell'interno. Mentre erano a bordo le condizioni di migranti ed equipaggio peggiorarono. Per questa ragione Salvini è indagato con l'accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Per poter processare un ministro per un eventuale reato commesso nell'esercizio delle proprie funzioni esiste una specifica procedura. Un tribunale dei ministri deve decidere se l'indagine sulla base degli indizi può andare avanti. In caso affermativo deve però chiedere alla Camera di appartenenza del ministro l'autorizzazione a procedere. Nel caso di Salvini si tratta del Senato. Se i senatori decidono di autorizzare l'indagine va avanti. Se rigettano la richiesta la magistratura deve fermarsi. Salvini inizialmente si è difeso dicendo che i blocchi erano funzionali a costringere l'Europa a farsi carico dei migranti sbarcati in Italia. Sostiene di aver agito per il caso Gregoretti esattamente come nel caso Diciotti mettendo il resto del governo a conoscenza delle sue decisioni e non ricevendo alcuno stop da parte degli altri ministri o del Premier Conte.